Se hai 16 anni e vivi nel quartiere più bello di Roma, sei fortunato. Il nostro è il migliore dei mondi possibili. Per quanto sia tutto così perfetto, per sopravvivere abbiamo bisogno di una vita segreta. Tra la metà dell'anno non è sempre così quello che ti inserirai bene. Ma chi ha tutta questa confidenza? Io il suo amico dei Pasolini. Che non ci sono un giro? Già ci vedo. Serate, un bel vestito. Sai, ci sono ragazze che le tatua ne combinano in tutti i colori. Se la gente si fa un'idea di te, e dopo non si torna più indietro. Senti, ma cosa sta succedendo? Tutto bene. Non mi servono i soldi. Senti, i soldi rendono tutto più chiaro. No... Senti, danno. No. No. Grazie a tutti